e ora com'è giusto che sia e matti andiamo a rilassare vai vai facciamo questi bellissimi pesciotti teverini eccola qua torna a casa e magari torna quando sarà più grande una è andata ora la piccola eccola qua la piccolina anche tu torna quando sarà più grande questa è piccolina ma la farà abbiano da tutti e ora il premio più bello eccola qua di questa pescata bellissima questa pesce meraviglioso ragazzi questa è un aspirapolvere giusto matti questa non è un pesce è un aspirapolvere bella bellissima bellissima e anche tu torna quando sarà più grande eccola qua guai sì